L'anno denominata attestato rapido e ha permesso di individuare oltre 100 persone tra Milano e Latina indagate per associazione a delinquere finalizzata alla falsità materiale, contraffazione e sostituzione di persona. È l'operazione condotta dai NAS dei Carabinieri di Latina finalizzata al contrasto della contraffazione di attestati professionali per l'ottenimento della qualifica di operatore socio-sanitario. L'associazione criminale attiva su tutto il territorio nazionale provvedeva la formazione di documenti falsi con tanto di illegittima attestazione del logo della regione Lombardia e della provincia di Milano. Secondo quanto emerso dall'indagine sarebbe stata poi la stessa associazione a procedere con il reclutamento dei soggetti interessati all'ottenimento della qualifica di operatore socio-sanitario proponendo loro l'acquisto dei falsi attestati con la qualifica rilasciati, spiegano gli inquirenti, in totale assenza della frequenza a corsi di formazione per CICFRE che si aggirano intorno ai 1.500-2.500 euro. L'indagine dei Carabinieri di Latina, avviata nel 2015 da accertamenti sui centri anziani e coordinata inizialmente dalla procura di Cassino in provincia di Frosinone, è stata poi trasmessa per competenza territoriale a Milano. Oggi sono state eseguite 96 perquisizioni con sequestri di falsi attestati nelle province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Chieti. I 103 indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, falso e sostituzione di persona. Le perquisizioni scaturiscono da attività ispettive e strutture ricettive per anziani nelle quali sono stati rinvenuti gli attestati professionali, poi risultati falsi o contraffatti o in altri casi rilasciati da centri formativi non abilitati. Tra gli indagati anche persone che in assenza quindi di specifiche competenze hanno operato all'interno di strutture sociosanitarie ed assistenziali.